Che Fratelli d'Italia, trascinato in tribunale, conte speranza per ottenere trasparenza e verità e che solo grazie alle sentenze con cui sono stati condannati. Quando io ero ministro venivo qui e ascoltavo le critiche. Non ho mai ascoltato un capogruppo o un rappresentante di un gruppo di maggioranza fare un intervento intero contro chi c'era prima. Una cosa mai vista prima che ricorda le epoche peggiori della storia di questo paese perché dobbiamo iniziare a chiamare le cose con loro nome. Quello è un intervento squadrista, squadrista, inaccettabile.